Un giorno a Favignana venne ritrovata in una grotta il cadavere di una donna di 32 anni che aveva con sé il passaporto. Questa donna si chiamava Alice Coleman. Pensa, nata a Vienna, passaporto cittadinanza statunitense, residente in Tunisia. Il maresciallo dei calabinieri dell'epoca di fronte a questo passaporto, un po' camilleriamente parlando, disse che è venuta a morire questa Favonio con queste caratteristiche. Ecco, forse questo è l'unico capitolo in cui magari il lettore può riconoscere in questo tipo di scrittura un po' di camillerismo. Ma in realtà, per quanto sorprendente possa apparire, la mia scrittura è stata molto condizionata dalle mie letture. Io adoro gli scrittori sudamericani. Gli scrittori sudamericani come Jorge Amado, come Munoz Molina, come Alvaro Mutis, quando descrivono un paesaggio o raccontano una scena, la descrivono senza aggettivi troppo roboanti, ma con i linguaggi della gente comune, del linguaggio di tutti i giorni. E riescono a colorarla, pur con una limitatezza di aggettivi, come secondo me nessun altro scrittore riesce a fare. Quindi ho preso molto, ho mutato molto dalla scrittura sudamericana, questo sì. Nonostante dunque la volontà dell'editor alla prima lettura, un modo di scrivere innato, istintivo, autobiografico, tanti pensatori sostengono che ognuno di noi, sin da quando nasce, ha insito in sé stesso, nel proprio animo il romanzo della propria vita, il romanzo che ha di dentro, e prima o poi lo scrive, lo scriverà, lo intende scrivere. E allora una curiosità, anche giornalistica, da giornalista e quindi da collega di Sardo. Come e perché un giornalista decide di scrivere? Perché? Allora, un giorno io qui ad Agrigento sentì un'osservazione, captata involontariamente, di un agrigentino che diceva a un altro, mi pure Carmelo Sardo si è messo a scrivere. Ora io la prendo in prestito non tanto per enfatizzare il tono polemico di questa osservazione, perché poi a me, francamente, ma la voglio ricordare questa espressione per dire una cosa semplice. Io avrei detto, era logico che proprio Carmelo Sardo si mettesse a scrivere, perché Carmelo Sardo ha sempre scritto, cioè giornalisti come noi scriviamo, e quindi va da sé, come dici te, che prima o poi ci sia uno sbocco, che sia un romanzo, che sia un saggio, ma ci sia uno sbocco editoriale di questo tipo e fisiologico. Sarebbe più sorprendente, infatti sorprendono molto più se, con tutto il rispetto, un macellaio scrivesse un romanzo, ma che lo scriva un giornalista, secondo me, è un logico sbocco professionale. Però attenzione, io dico sempre, e ritorno all'espressione che ho usato prima, che non sono uno scrittore, non sono un romanziere, sono uno che aveva dentro una storia molto forte, ma non forte, sgombero il campo d'equivoci perché sapevo che funzionasse, ma forte per come è stata forte dentro di me, per come io l'ho avvertita, l'ho subita, e me la sono pazientemente portata dietro, e cioè lo svezzamento di un ragazzo di 20 anni che avviene all'interno di un supercarcere. L'apprendistato alla vita, la crescita, la maturazione di un ragazzo di 20 anni che improvvisamente viene strappato ai propri divertimenti, alla propria spensieratezza tipica dei 20 anni e si ritrova catapultato in una dimensione che nessuno immagina finché non la vive dall'interno. Non come le visite in un carcere di un giorno, uno non capisce nulla, ma viverci nove mesi chiuso insieme ai detenuti perché di questo si tratta. C'è un tipo di servizio durante l'arco della giornata in cui un tuo collega ti chiude a chiave all'interno del cortile dove si affacciano le celle aperte del carcere. Quindi tu in quel momento passeggi con i detenuti. Ora pensa, Angelo, a 20 anni, come puoi recepire, subire e far crescere dentro di te questa vita che non riesci neanche lontanamente a immaginare nella vita di tutti i giorni. Alla fine succederà che questa maturazione, questo apprendistato alla vita, questo svezzamento, farà crescere così il giovane al punto che quasi non si vuole sganciare da quella realtà. Quindi io avevo questa storia dentro, lo sbocco nella scrittura mi sembrava che poi a un certo punto fosse diventato fisiologico. Poi ci sono tanti altri giornalisti che hanno tante altre storie, che magari condensano in un libro, in un saggio, tutta la loro attività. È successo a Saviano e ha avuto lo straordinario successo che tutti abbiamo sotto gli occhi, ma sappiamo che Roberto Saviano, per quanto abile e capace sia nella scrittura, ha avuto semplicemente, semplicemente dal modo di dire, ha avuto l'acume, la scaltrezza di riuscire a leggere oltre tutto quello che tutti i colleghi leggevano. L'ha messo insieme tutti questi verbali, ha messo insieme tutte queste storie e ne ha fatto un libro che è diventato un bestseller mondiale. Poi magari ci saranno anche altri giornalisti che scrivono storie magari minime e non hanno il successo che invece altri hanno avuto. È vero quello che poi dici tu, ma per me è uno sbocchio e una conseguenza logica del lavoro che facciamo. Io sono certo, guarda, senza andare troppo lontano, e mi sento di presagirtelo, che se già tu non l'hai fatto, non ce l'hai in mente, ma prima o poi ci arriverai anche tu. E tu ne avrai di cose da scrivere. Ascolta, tu sei stato militare in carcere venti anni addietro, dunque posso immaginare che a proposito del romanzo insito, nell'animo di ciascuno di noi, Vento di Tramontana sia stato adesso partorito, ma sia stato in gestazione vent'anni. Vent'anni, anche quando eri ancora a Teleacras. Esatto, esatto. E come dicevo prima, io avevo dentro questa storia. Mi limitavo a raccontare qualche episodio chiacchierando con gli amici, quando capitava una serata di divertimento, di bevute, di mangiate, sai com'è, no? Però in realtà io aspettavo un segnale. Io non avevo in mente di scriverla. Però sentivo che avevo bisogno, prendo in prestito questa espressione che sembra un po' forte, avevo bisogno di esorcizzarla. Per esorcizzarla pensavo che dovesse affidarla alla fruizione dei lettori. E allora il segnale che mi mancava è stata come nelle fiabbe il ritrovamento di quei quaderni, perché devi sapere che io durante il servizio, cioè le otto ore di servizio, per una mia mania, all'epoca non facevo ancora il giornalista, non avevo neanche lontanamente idea di cosa potessi fare a vent'anni nella vita. Poi per singolare coincidenza, immediatamente dopo il mio congedo, che avvenne, attento alle date, il 30 giugno dell'83, io mi concedai dal carcere di Favignana e credo il 23 o 24 luglio dell'83 io condussi il primo Vigidi Teleacras nei gloriosi studi di Rupe Atenea, dove l'avventura del lungimirante editore Giovanni Micichè, che qui saluto e ringrazio per tanto affetto e tanta stima nei miei confronti, ebbe l'intuizione di avviare questa struttura televisiva che oggi è invece ospitata in questi meravigliosi locali molto più idonei. E ti dicevo, quindi, passò meno di un mese e cominciò la mia avventura giornalistica, io non avevo neanche lontanamente idea di cosa potessi fare da grande, volevo fare l'avvocato, eccetera. Ecco, avevo quindi l'abitudine che mi portavo dietro di scrivere, prima ancora di diventare giornalista, mi portavo dietro un quaderno, lo infilavo nel fondo schiena, nel pantalone della divisa, e quando ero sul muro di cinta, o anche nelle celle di notte con la lucina accesa, tutti dormivano, io dovevo far passare il tempo e scrivevo. Inizialmente nel quaderno, un quaderno normale di queste righe da quinta elementare, inizialmente scrivevo le emozioni di un ventenne, pensavo alla mia fidanzatina dell'epoca, a cosa avrei fatto da grande, insomma, a vent'anni cosa si pensano. Poi, piano piano, rileggendo questi quaderni che vennero fuori solo quattro anni fa, vedevo che a un certo punto, stasera, il detenuto Peppino Spitaleri mi ha raccontato una storia veramente incredibile, mi ha raccontato perché e come ha ucciso la moglie, e quindi vedevo che dalle pagine di questo quaderno uscivano fuori le storie e i drammi di questi detenuti. A quel punto me ne ricordai molte rileggendolo, passai la notte in bianco di quattro anni fa a rileggere tutti questi quattro quaderni, con tutta la storia, ho detto, dico, questo può essere un segno del destino, dico, qui c'è una grande storia dentro, perché mi piace ricordare qui che nonostante io raccontassi i drammi di questi detenuti, in realtà mettendo insieme tutte queste storie è venuto fuori anche un grande romanzo d'amore.